Le temperature altissime, il vento caldo che ogni tanto si leva e spira, sono due elementi perfetti per scatenare gli incendi. È stato così due giorni fa a Bellante, è stato così anche oggi nel territorio del comune di Campli. Le fiamme si sono sviluppate nella zona della frazione I Piancarani, che è stata sfiorata dall'incendio, che con il passare delle ore ha avuto un fronte che ha anche raggiunto una discreta estensione. Oltre a molte abitazioni private, nella zona ci sono anche alcune aziende agricole. Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Teramo, che hanno ricevuto rinforzi dai carabinieri della locale stazione e dalla protezione civile di Pineto e della Valfino. La presenza in zona di cavi dell'alta tensione ha reso difficoltoso l'intervento degli elicotteri, che in un primo tempo hanno rinunciato a intervenire, vista la pericolosità dell'operazione. Ma poi, con lo svilupparsi delle fiamme, un mezzo è riuscito a volare. Si tratta di un elicottero dotato di un bucket, una sorta di benna attaccata al gancio baricentrico del veivolo. L'intervento è stato importante e soprattutto ha permesso a coloro che agivano da terra di delimitare delle linee tagliafuoco che non hanno fatto sviluppare il fronte dell'incendio, ancora di più di quanto avesse fatto. Le operazioni sono andate a buon fine e ora si sta agendo per spegnere gli ultimi focolai, sperando che non arrivi un vento più forte ad alimentarne le fiamme. Grazie.